ben a tutti i free readers bentornati a questo appuntamento con free with news oggi un grande resoconto della stupenda tre giorni che c'è stata a milano davvero grazie a tutti per la partecipazione a canapa expo e soprattutto per l'intensa partecipazione intensa voglia che avete messo nel venire a prendere i volantini allo stand dell'associazione free with davvero siete stati giganteschi avete preso un sacco di mantini a parte ritirarli come visitatori anche come già followers interessati come sostenitori che ci credono anche come aziende quindi grow shop e attività commerciali hanno preso davvero tanti pacchetti tanti volantini da tenere poi negozi distribuire sul territorio tutto il territorio nazionale quindi davvero un weekend trionfante per quello che è la diffusione del messaggio per arrivare a una legge chiara ed evidente una richiesta popolare sempre maggiore quella che è il manifesto per la cannabis libera volevo davvero ringraziare tutti e soprattutto gli attivisti che sono venuti a sostenere l'informazione attiva del manifesto da lontano come giuseppe di cannabis consapevole davvero grazie come giovanna di love grass curno davvero grandi anche un saluto a lorenzo e soprattutto anche a dario e a simone attivisti davvero instancabili sempre presenti su milano e davvero è importante quello che stiamo facendo lo continuerò a dire voglio ringraziarvi perché è quello che si sta facendo a creare consapevolezza verso una riforma collettiva richiesta a gran voce ai cittadini e che appartiene solo ai cittadini non è di nessun partito non è della politica diciamo elettorale o sempre votata alla ricerca dei voti scusate mi gioco di parole ma è così ma è proprio dei cittadini e delle persone che ci credono davvero un cambiamento che lo desiderano quindi non solo consumatori ma anche proprio attivisti cittadini tutti la società intera ed è una riforma che alla società porterebbe enormi vantaggi proprio nella sua complessità e questo è davvero importante ed è bellissimo che si sta finalmente diffondendo il messaggio finalmente stanno iniziando a aderire e partecipare anche gruppi che non diciamo non hanno come aspirazione principale del loro operato la liberalizzazione della cannabis ma stanno attivandosi per questo tema quindi volevo ringraziare anche Fridays for Future di Prato che davvero sta facendo un lavoro territoriale importante per cercare di tenere insieme i temi di ambientalismo e di liberalizzazione della cannabis ma anche tanti altri gruppi attivi sui livelli territoriali e anche a livello nazionale quindi davvero grazie è sempre un piacere parlarvi incontrarsi vedersi confrontarsi e rimanere in contatto stiamo creando anche una piattaforma di azione collettiva a supporto del manifesto collettivo per cercare di spingere ulteriormente su queste tematiche e soprattutto sulla riforma collettiva che crediamo e chiediamo come necessaria in questo nostro paese ormai ancora diciamo abbandonato purtroppo perché la politica ci sta abbandonando ancora a quello che succede non c'è una vera e propria voglia di riforma in parlamento e quindi spetta ai cittadini chiederla a gran voce di insistere per una discussione parlamentare del manifesto per la cannabis libera quindi davvero ancora un grazie a tutti rimaniamo aggiornati perché in questa settimana stiamo preparando i nuovi volantini ovviamente come sempre altri volantini altre produzioni grafiche ma soprattutto i nuovi adesivi del manifesto collettivo che potrete ordinare direttamente dal sito free weed e diffondere ovunque oppure ci vediamo ai prossimi eventi il prossimo anno e ovviamente ce ne saranno tanti ci sarà canapa mundi ci sarà l'emp festa milano ci sarà indica sativa trade e ci sarà la milio mario anna marci il ventesimo anno quindi una manifestazione nazionale roma importante che già adesso vi invito a prendere in considerazione per una partecipazione attiva bella a tutti free readers fino alla libertà